buongiorno a tutti oggi mi trovo a viganello per mostrarvi un accogliente monolocale situato al primo piano ecco l'ingresso come vedete troviamo subito dei comodissimi armadi a muro il pavimento è in barchè l'appartamento è stato completamente rinnovato la metratura è di circa 25 metri quadrati ma risulta accogliente e ben illuminato grazie a questa porta finestra ampia che ci accompagna sul balcone che si sviluppa in lunghezza rientriamo e vi mostro la cucina cucina super nuova accessoriata con lavandino frigorifero piano cottura in vetro ceramica forno e cappa qui troviamo il bagno bagno con lavandino specchio con mobile contenitore bc e box doccia questo appartamento è l'ideale per un singolo in questo stabile vengono accettati animali di piccola taglia ed è a disposizione una lavanderia comune senza turni se ti è piaciuto ti invito a contattarci per effettuare una visita confitto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti